Il pendolo dell'orologio di Piazza Libertà iniziava a muovere il tempo inesorabile ed allora ecco materializzarsi nei fatti il progetto che da giovedì 12 settembre vede via Tabacco tornare all'antico, autoveicoli in entrambi i sensi di marcia, la realizzazione del primo annuncio fatto a giugno dalla giunta pavana appena insediata. Tutto infatti è pronto. Non manca nulla, qui c'è il dosso, ora c'è il senso unico, i 30 km all'ora e questo è il nuovo cartello che è quello del senso unico alternato. La vecchia ciclabile non c'è più ma sussiste un problema, gli edifici a bordo strada non si possono abbattere. Qui non c'è più la ciclabile, non ci sono neanche più i cordoli e come vedete la gente continuerà comunque a passare nei punti più stretti come questo. La cosiddetta velocità dolce sarà spostata nei circa 120 metri di pista appositamente realizzata di fianco alla ferrovia che vediamo asfaltata e con la rete di delimitazione, un lavoro fatto velocemente. Nei fatti non si tratta del tanto strombazzato doppio senso di circolazione ma di un più banale e arrangiato senso unico alternato che sarà comunque problematico perché è escluso che molti pedoni, qualsiasi cartello ci sia, rinuncino a percorrere la pericolosa strettoia. Una responsabilità non da poco in capo agli amministratori, che non paiono però preoccupati. Anzi, il presidente del quartiere Cabaroncello, Giorgio Mattesco, ha parlato di commossa gioia del quartiere per la decisione della Giunta, attaccando la precedente amministrazione Poletto che, dal canto suo, ricorda che era proprio stato il quartiere a richiedere invece insistentemente il senso unico presente fino ad oggi. Insomma, le cose cambiano nel tempo. Come ci ricorda, a mo' di metafora, questo ex pastificio di Via Tabacco, ora tristemente dismesso, monito alla umana provvisorietà.